cari amici di ciclo web del ciclismo della ciclibreria e della pace nel mondo questa puntata è dedicata a due soli campioni campionissimi uno è il protagonista del nostro libro del mese fausto coppi e l'altro è un personaggio che avevamo tutti nel cuore e che ci fa stringere il cuore un personaggio che tre giorni fa avrebbe compiuto 50 anni e non occorre che vi dica di chi si tratta libro del mese ricordo a chi si fosse collegato solo ora e si fosse perso un po di mesi di ciclibreria le regole del gioco se ordinate il libro del mese vi mandiamo uno dei nostri portachiavi in regalo poi se li collezionate tutti e quattro vincete una t-shirt allora coppi ultimo libro di marco bastonesi ultima fatica del giornalista e scrittore bastonesi edito da 66th and second ogni volta mi si annoda la lingua dovevo pronunciare questa dannata casa editrice va bene bravissimi questi editori allora leggendo questo libro sono incappato in una pagina in un capitoletto dedicato al trofeo tendicollo e già subito mi si è accesa la spia la lampadina tendicollo io conosco il trofeo tendicollo molti di voi ci commetto non sanno di cosa si tratta ma non è un mio merito conoscerlo è una fortuna perché ne ho letto diffusamente negli scritti del grande morris morris maurizio riccia al secolo che ne scriveva sul forum insomma nei suoi ricordi di infanzia e nello scrivere di questo trofeo a cui coppi partecipò nel 1959 nel suo ultimo anno che poi è come dicevamo la settimana scorsa il contesto della storia l'ultimo anno di coppi e quindi nello scrivere nei bastonesi racconta una storia e io quella storia mentre la leggevo dicevo ma io questa storia la conosco benissimo perché era proprio la storia di morris bambino che assiste al trofeo tendicollo e quindi con grande tenerezza sono arrivato poi alla fine del capitolo laddove viene poi citato maurizio ricci viene nominato evocato e gli mando un saluto e una abbraccio se mi guarda se mi segue e poi un altro piccolo episodio così buffo simpatico mi è successo ieri mi telefona una persona con attinenza al ciclismo mi doveva parlare di alcune cose importanti relative al ciclismo e poi mi dice il suo nome di battesimo si è rappresentato solo con il cognome fausto dico ah un nome ciclistico e dice ma sai che il libro nell'ultimo libro di bastonesi vengo citato tra quelli che si portano a presso il nome di battesimo in onore di coppi fausto ce ne sono tanti e quindi sono andato poi a mi ha detto la pagina sono andato anche a guardare a riguardare la pagina in cui lui veniva citato effettivamente viene citato e quindi queste coincidenze mi fanno impazzire mi danno grande soddisfazione e niente un paio di aneddoti legati un po a me legati soprattutto al libro di marco bastonesi coppi ultimo il nostro libro del mese bellissimo come tutti i libri di di marco bastonesi ve lo consiglio e non dico altro marco pantani cosa rappresenta per me marco pantani rappresenta tutto il ciclismo che si può sognare e che si poteva sognare da giovane da ragazzo poter parlare per ore di pantani di quello che mi lega a pantani anche gli albori della mia professione della mia carriera nel giornalismo chiamiamo la carriera sono legati a doppio filo alla figura di pantani ancora prima che io iniziassi a scrivere di ciclismo ad avere questa grande fortuna ero un ragazzo un liceale e leggevo su bicisport gli incoraggiamenti del direttore sergio neri quando qualcuno gli scriveva sogno di fare il giornalista gli incoraggiamenti ai suoi giovani lettori a mandargli dei dati lo scritti con degli articoli da valutare e io non me lo feci ripetere due volte scrissi un lungo articolo non so quante cartelle dati lo scritte dedicato alla al momento in cui pantani si presenta sullo scenario internazionale al tour de france del 94 nella tappa di otacamo in cui arriva terzo alle spalle di indurain luke leblanc ed è il giorno in cui c'è proprio il passaggio del testimone tra chiappucci che fin lì negli anni precedenti era stato il nostro uomo in francia colui che aveva riacceso gli entusiasmi italiani al tour e il giovane pantani chiappucci quel giorno visto una crisi terribile perse oltre 20 minuti e pantani invece andò all'attacco nella nebbia una tappa a suo modo epica io ne scrissi insomma poi spedi questo questa carta questo questo malloppo di di fogli ma non ricevetti mai risposta poi non contento andai a roma a frequentare l'università dopo un anno due non lo so e riportai quell'articolo personalmente andai proprio alla sede a torsapienza della compagnia editoriale perché dici no non è possibile che non mi abbiano risposto non avranno ricevuto il faldone quindi lo portai personalmente ma ugualmente non ricevetti risposta va bene poco male di lì a nove mesi iniziai a scrivere di ciclismo su un altro giornale allora oggi vi voglio presentare una carrellata di volumi che noi abbiamo nel nostro store su pantani io ho sempre molto pudore quando si tratta di pantani quando noi abbiamo fatto le magliette l'anno scorso due anni fa manderà le t-shirt sarebbe stato anche facile farne una o più di una dedicata a pantani ma non l'ho voluto non lo so non voglio che non voglio dare l'impressione di essere uno che prova a lucrare sulla figura di pantani i libri li teniamo nello store tra l'altro abbiamo un margine talmente risicato che non mi vergogno di parlare dei libri di pantani non ci guadagniamo granché non lo so forse un discorso fuori luogo questo che sto facendo va bene pantani una grande letteratura dedicata a lui e mi riallaccio al pastonesi edito da 66 in second nella stessa collana vite inattese e ha pubblicato pantani era un dio ed è un modo poetico per approfondire la figura di pantani un libro molto bello che vi consiglio e vi consiglio anche gli altri libri i tanti libri che vi sto presentando di alcuni abbiamo già parlato per esempio ci sono dei volumi che vanno ad analizzare alcuni momenti della carriera di pantani appena sotto il cielo di fabio marzaglia per bradipo libri racconta della giornata mitica di europa la grandissima rimonta di pantani la più straordinaria delle storie di marco pantani c'è scritto nel sottotitolo un immersione in quella giornata fantastica cosimo cito giornalista anche della gazzetta dello sport né il fantasma del galibier edito da limina invece ripercorre l'intero tour de france del 2008 ovviamente con i fari puntati sulla tappa leggendaria del galibier in cui pantani ribaltoian ulrich come diceva de zan piero fischi parla pantani per l'editore libero di scrivere ripercorre in questo libro fischi la carriera di pantani soprattutto ripubblicando nelle pagine del libro tutta una serie di interviste rilasciate a suo tempo dal pirata e quindi anche qui abbiamo la versione di pantani su tanti momenti della sua carriera poi c'è una doppietta di beppe conti per grafo editore sono libri del relato su pantani e ci sono interviste in un caso a davide boifava da mercs a pantani si intitola il libro davide boifava racconta i suoi campioni e boifava è stato il primo team manager della di pantani di quando pantani era alla carriera nei primi anni da professionista e quindi ci racconta alcuni anedoli alcune storie bellissime del giovane pantani che si affaccia al professionismo e poi romano cenni il mio pantani i miei campioni intervista a cura di beppe conti anche questo un libro di grafo e qui il padron della mercatone uno colui che investì tutto dal punto di vista sportivo su pantani sulla figura di pantani e visse le più grandi affermazioni la vittoria al giro la vittoria tour de france nel 98 e poi il tracollo morale psicologico sportivo susseguente ai fatti di madonna di campiglio e qui ritroviamo insomma il punto di vista di romano cenni il compianto romano cenni cateno tempio l'eroe della montagna ascesa e cadute di marco pantani questo è un romanzo edito da vm che è un villaggio maori edizione ricordavo che era un acronimo qui è un questo è un romanzo in cui l'autore immagina di essere un ciclista coevo di pantani con cui si scontra al giro d'italia sono un libro curioso interessante e molto personale così come molto personale il libro di michele marziani nel nome di marco romanzo edito da edicicolo in cui la storia personale dell'autore del protagonista del romanzo si intreccia con le vicende di pantani e poi non possiamo esimerci dall'affrontare il caso pantani la vicenda giudiziaria partita la madonna di campiglio culminata con la morte con le successive indagini che tuttora non hanno a mio modesto avviso fatto luce pienamente su questo su questo caso sulla morte di pantani non ci hanno regalato una verità condivisibile gli ultimi giorni di marco pantani di philippe brunel giornalista francese edito da bur questo è un libro importantissimo perché è stato il primo che ha fatto che ha posto l'accento appunto su alcuni aspetti che non tornavano nella nella vicenda della morte di pantani e poi è stato un profluvio di libri sul tema luca steffenoni per chiare lettere ha scritto il caso pantani doveva morire e qui si parla anche delle clamorose rivelazioni di vallanzasca l'ombra delle scommesse l'eventuale intervento della camorra nei fatti di campiglio del giro del 1999 roberto manzo che abbiamo incontrato qualche mese fa in un evento qui dalle mie parti l'ho intervistato ha scritto chi ha ucciso marco pantani senza punto interrogativo e qui in questo libro edito da mondadori manzo che è stato avvocato di pantani pubblica anche ampi stralci dei processi in cui pantani venne coinvolto venne imputato una violenza giudiziaria che si abbatte sul pirata anche oltre molto oltre le eventuali responsabilità e sempre sul caso pantani sull'inchiesta su quello che non torna sui fatti del residence le rose sui buchi delle indagini delle prime indagini ha scritto anche davide de zan in pantani è tornato edito da pm anche questo è un libro molto importante lo stesso de zan e chiudo l'aspetto giudiziario lo stesso de zan nel suo libro in fuga successivo al precedente mette proprio pantani in copertina e nel raccontare di tanti campioni incontrati nella sua carriera dedica un'ampia parte del libro a pantani al rapporto con con pantani del resto de zan davide fu il primo cantore di pantani in quel giro del 94 la la tappa merano aprica che tutti ricordiamo e che a tutti provoca insomma un po di lacrimazione e poi chiudo con tonina pantani libro scritto con francesco geniti tonina è la madre di marco pantani questo libro si intitola in nome di marco edito da rizzoli ed è un ripercorrere appunto le vicende la vita la carriera di pantani anche la vita privata ci sono anche delle foto bellissime foto private personali che non erano state pubblicate prima dell'uscita di questo libro in nome di marco e niente questo è quello che noi abbiamo al momento su pantani non è esaustivo al cento per cento c'è ancora qualche volume che probabilmente avremo in seguito anche del materiale audiovisivo ho intenzione di inserire nel nostro e commerce però c'è tanto da leggere su pantani tanto è stato scritto e in questi in questo elenco di volumi che vi ho mostrato ne manca uno che per me è stato importantissimo ma che non riesco a ritrovare tramite la normale distribuzione devo vedere se riesco a recuperarlo a procurarmelo in qualche modo per metterlo a vostra disposizione il caso marco pantani il capro espiatorio scritto tanti anni fa dalla mia cara amica maria rita ferrara a cui mando un grande abbraccio è un libro illuminante perché maria rita prima di tutti prima di chiunque altro usando il ragionamento la logica e anche la filosofia se vogliamo aveva capito quasi tutto certo quando lei scrisse questo libro mancavano mancava la conoscenza di alcune evidenze di alcuni aspetti però era tutto chiaro agli occhi di chi veramente voleva vedere e lei volle vedere con lucidità e acume impressionanti scrisse quel libro che resta ancora oggi una pietra miliare nella letteratura su pantani e quindi questo è marco pantani ne trovate a pagine a pacchi ne trovate tantissimo di marco pantani nelle pagine dei libri che noi abbiamo sul nostro e commerce rimini è stata l'ultima tappa ma la prima è campiglio l'esclusione in maglia rosa l'ho assegnato in modo indelebile lui la definiva una grande ingiustizia quando si parla del 99 ci si sofferma solo sulla questione dell'ematocreto alto una regola così importante la prova provata del doping secondo tanti esperti che la federazione internazionale sei mesi dopo aver fermato marco levandogli un giro d'italia stravinto ha cambiato i parametri dell'emoglobina sei mesi dopo non sarebbe accaduto nulla mio figlio perché con i nuovi valori ritenuti da tutti più idonei e significativi avrebbe concluso senza problemi il giro e la rabbia si trasforma in tempesta per aver scoperto solo da poco grazie a questo libro che quel controllo poteva essere annullato con un semplice ricorso avrei mio figlio qui adesso devo restare calma essere razionale condurre le mie battaglie in modo concreto marco non me lo riderà indietro nessuno ma almeno la smettessero con le cattiverie almeno si raccontassero le cose come stanno e non le solite ipocrisie come si è fatto per anni ecco credo che sia stato proprio il contesto di doppiezza a mandare in bestia marco dopo campiglio lo si è fatto passare come la marcia di un albero sano il ciclismo cioè la favoletta raccontata dai suoi detrattori era questa lui vinceva ed era così forte perché si dopava mentre tutti gli altri erano puliti un concetto passato attraverso i media e recepito dalla gente disinformata che lo attaccava di continuo e questo concetto si è rafforzato sempre di più fino alla sua morte tonina pantani con francesco ceniti in nome di marco edizione rizzoli e 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